Iniziamo direi proprio dalle parole del Presidente della Repubblica, tu oggi Concita hai scritto una frase da tatuare quando dice l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli e dice i manganelli contro i ragazzi sono un fallimento, ci si riferisce evidentemente alle cariche della Polizia contro questi ragazzi giovanissimi di 15-16 anni è venuta a Pisa e il richiamo così netto del Quirinale non è piaciuto a una parte della destra e sarebbe strano se emergessero adesso delle tensioni fra una parte della destra di governo e il Colle. Sì intanto appunto cominciamo dalla fine perché i fatti sono ormai di ieri quindi li conosciamo ci torno subito però questa reazione della destra alle parole del Capo dello Stato fa capire forse anche un po' meglio perché c'è il desiderio di limitare i poteri del Capo dello Stato insomma dà fastidio, è una famosa riforma a cui si sta pensando, è una riforma che di fatto depotenzierebbe i poteri del Capo dello Stato quindi meno male che non è così, meno male che il Capo dello Stato esiste e che prende la parola, questo comunicato è storico perché è la prima volta a memoria di cronista che un Presidente della Repubblica interviene a ferro caldo su una manifestazione con i fatti accaduti da 24 ore e prende, non dico le parti ma insomma diciamo si rivolge, non dico le parti dei manifestanti ma dico si rivolge al Capo della Polizia dicendogli così non si fa perché era accaduto in passato un'altra volta che Ciampi nel 2001 durante il G8 di Genova dopo la morte di Carlo Giuliani facesse un comunicato ma in quel caso era rivolto ai manifestanti, diceva manifestanti ragazzi state calmi, invece qui Mattarella dice alla Polizia state calmi, state calmi e questo riferimento al Manganello che già la parola Manganello in un comunicato del Quirinale c'è qualcosa che non funziona in questo, se io fossi il Presidente del Consiglio mi preoccuperei parecchio perché poi questo è l'ultimo di una serie di episodi, le identificazioni il loggionista della scala, chi porta i fiori a Navalny, chi va a teatro e deve mostrare il suo tesserino davanti alla RAI, cioè continuamente ci sono episodi di, sì anche nelle scuole i ragazzi nelle scuole che occupano, che vengono interrogati, in qualche modo i genitori convocati, segnalati, cioè come dire c'è un'attenzione rispetto al tema dell'ordine molto forte ma Mattarella dice giustamente non è questo il metodo, cioè chi picchia è debole, ogni volta che tu eserciti violenza, a parte che tu sei la forza dell'ordine e come dice la parola stessa devi mantenere l'ordine, ma devi anche lasciare la libertà di parola, la libertà di espressione, erano in piazza dei cavalieri, erano davanti alla scuola superiore normale, cioè una delle massime istituzioni culturali di questo paese, la normale di Pisa, anche i simboli parlano in questa storia, hanno ragazzini usciti da scuola con gli zaini, le hanno rincorsi nei vicoli, ci sono i video, tutti hanno un telefono ormai, tutti filmano, li abbiamo visti tutti, quindi non sono i ragazzi che si sono diciamo andati alle testate contro i macanelli, sono i poliziotti che li hanno picchiati. E Massimo dice a questo proprio momento, hai scritto Massimo, non sono episodi casuali isolati, riflettono un clima di autoritarismo che c'è nel paese. Sì, io ne sono molto convinto mettendo in fila i fatti, le azioni e le comunicazioni del governo, diciamo che dal punto di vista della comunicazione è evidente che c'è una palese intolleranza e insofferenza verso tutto ciò che rappresenta dissenso rispetto al mainstream, alla narrazione che questo governo vuole rappresentare al paese. Ma poi ci sono i fatti, le azioni, alcuni li ricordava Concita, non è la prima volta che la polizia usa il manganello in modo così violento e indiscriminato contro manifestanti, in questo caso l'aggravante era che erano studenti minorenni che erano lì, appunto come diceva Concita, con lo zaino, ma è già successo a Milano, è successo a Torino, è successo a Venezia, è successo a Roma. Diciamo che c'è questa tendenza delle forze dell'ordine a far valere il diritto della forza invece che la forza del diritto. Se a questo accompagniamo anche episodi, anche lì, dove non intervengono gli agenti, arriva la Digos e quindi identificazioni sulla base di presunti rischi per l'ordine pubblico, direi di no, appunto il loggionista non ha messo in pericolo nulla, meno che mai quelle dodici anime buone che hanno deposto un fiore per Navalny, però anche lì interviene la Digos identifica. Tu vedi un clima. Vedo un clima perché se poi a tutto questo aggiungi che, lo dicevamo domenica scorsa, nei confronti dei poveri Cristi e di tutti quelli che rappresentano dissenso, distonia, devianza e quindi i rave party, chi occupa le scuole, chi imbaratta i monumenti, chi fa i blocchi stradali per l'ambiente, lì linea dura, galera, galera, galera. Ecco, allora metti insieme tutti questi aspetti e hai un quadro, non dico da stato di polizia, ma lo citavo nell'editoriale di ieri, Foucault se ci fosse parlerebbe di un regime tendenzialmente autoritario, come lo sono gli stati democratici di oggi, che virano sempre più spesso, in assenza di anticorpi che facciano da camera di compensazione, verso l'intolleranza e l'illiberalità. E questo è quello che sta un po' succedendo, concludo, meno male che c'è Mattarella. Noi ancora un anticorpo forte ce l'abbiamo, quindi torno a quello che diceva Concita, teniamocelo stretto. E questa riforma, se riusciamo a fermarla anche soltanto al referendum, quando si arriverà, facciamo un bene alla democrazia italiana. Annalisa, che poi insomma, per riassumere quello che diceva nel messaggio del Presidente della Repubblica, i manganelli fanno male anche a chi li adopera, perché fanno male certamente a chi li riceve, ma anche a chi li adopera perché si spacca una specie di patto di fiducia che invece abbiamo costruito faticosamente dagli anni del terrorismo in avanti con le forze dell'ordine e di polizia. Cioè è una cosa che davvero non ha senso. Sono un fallito. Quando, stiamo parlando di manifestazioni ovviamente pacifiche in cui nessuno aggredisce le forze dell'ordine, in cui non ci sono insulti, ma insomma il diritto di manifestare, tra l'altro lo diciamo sempre di questi giovani che stanno tutto il tempo sui sociali virtuali, che non vivono in realtà, in fondo manifestare al di là che noi condividiamo le idee dei nostri figli. Ma manifestare è invece finalmente un segno di partecipazione al mondo, portare il proprio corpo in mezzo alla realtà. Lo dico molto semplicemente, ci sono due livelli. Il primo è che usare il manganello contro il dissenso è fascismo. Il manganello si usa, si può usare la forza, le forze dell'ordine la possono usare quando c'è un pericolo. Non c'era nessun pericolo in quella piazza. Quei ragazzi erano disarmati, non avevano una pietra, non avevano una spranga, avevano solo i loro zaini ed erano a volto scoperto. Non stavano forzando niente, non stavano caricando come qualcuno ha detto. Quindi l'uso del manganello sul dissenso, semplicemente perché le frasi, gli slogan non ti piacciono, è fascismo. Chiunque avalla una cosa del genere sta avallando una pratica fascista. Non è che si può girare intorno a questo. Non credo che sia un caso che per la prima volta, a nostra memoria, il Presidente della Repubblica ha fatto un comunicato così forte. Il secondo livello che io intravedo in filigrana nelle parole di Mattarella è quello che dici tu. È questa generazione ed è il modo in cui noi la trattiamo. Continuiamo a dire loro che non si interessano abbastanza, che non fanno abbastanza, che sono fragili. Tutte le volte che vanno in piazza incontrano il manganello. Se vanno in piazza per il clima incontrano leggi repressive, se sono stati aumentati i reati, sono stati aumentati sia i reati anche le pene per i minorenni. Noi siamo in un paese dove è aumentato enormemente il numero dei ragazzini che vanno in prigione. Non perché ci sono più delitti fatti da ragazzini, ma perché non ci sono più reati. Ci sono più reati, non ci sono più facilmente in prigione. E noi sappiamo, perché lo dicono i dati del Ministero della Giustizia, non lo dicono le associazioni, non lo dico io, non lo dice Antigone. Noi sappiamo che i ragazzini che vanno in prigione tornano a delinquere, che quelli che invece sono presi in carico dai servizi sociali, come si faceva finora, non tornano a delinquere. Ci sono delle differenze abissali. Quindi questa generazione maltrattata io penso che il Presidente della Repubblica volesse dire anche questo.